Dico, ti posso passare Guzzanti, Paolo Guzzanti? Ma come dire di Guzzanti? Hai comprato il libro, 16 euro, l'hai messo a carico nostro, sto libro. Non so, che vuole, vuole 16 euro. Paolo, dici qualcosa, Paolo. Ho sentito molto male, ma non so che dire. No, io ricordo di avere letto delle graziose intercettazioni dopo il libro in cui... Ma sì, ma chiedili perché ha comprato il libro e l'ha messo a carico nostro, scusa. Io glielo devo chiedere, è una curiosità. Comunque ce l'abbiamo tutti, io sono anche lusingato perché ho una copia in più. Però non mi pareva il caso di mettere a desito del contribuente Romarto.